Da 24 ore tutti mi dicono, e adesso cosa ci dici di Battisti? Ho visto anche molti autorevoli commentatori su giornali importanti, dalla Verità anche a Corriere della Sera, pongono questa domanda, dicono adesso Battisti ha confessato e voi che avete posto un mare di questioni in tutti questi anni cosa avete da dire? Dovete chiedere scusa? Io non ho capito bene, scusa di che cosa? Com'è la questione? Io e molti altri, pochino, poche altre persone anzi, negli ultimi tempi sempre meno, ho sempre posto questa questione, la questione di come si svolsero quei processi, i processi in quell'epoca, poi dopo vediamo i processi dopo, in particolare i processi in quell'epoca, in particolare i processi contro gli esponenti della lotta armata, in particolare il processo a Battisti. Ho sempre detto, era un processo indiziario, era un processo basato essenzialmente, se non esclusivamente, tranne alcuni indizi, ma quasi esclusivamente sulla testimonianza dei pentiti. E io ho sempre detto, attenzione, non si possono usare in questo modo i pentiti, perché i pentiti naturalmente possono dire la verità, ma possono anche dire delle bugie, possono avanzare dei racconti, possono fare dei racconti di convenienza che convengano a loro, eccetera, eccetera. E soprattutto naturalmente godono di un regime premiare, così detto. Quindi per esempio i pentiti che hanno accusato Battisti e che sono, per esempio, quelli che hanno accusato Battisti, poi sono loro stessi reoconfessi dell'uccisione di Torreggiani e di altri, sono già da molti anni fuori dalla prigione, perché hanno scontato pene piccole in cambio del fatto che accusavano Battisti. Quindi diciamo questo è il motivo per cui io ed altri ho sempre contestato quelle sentenze. Ho detto, erano sentenze che non si basavano su prove provate e per di più sono state fatte con il processo che è stato incontumace, eccetera, eccetera. Non ho capito cosa è cambiato, francamente non ho capito cosa è cambiato. Io non ho mai sostenuto né che Battisti fosse colpevole né che Battisti fosse innocente. E dico qualcosa di più, io oggi continuo a non sapere se Battisti è colpevole o innocente, perché francamente a me la sua confessione non basta. Come peraltro ho visto non basta a molti di quelli che accusano me ed altri di essere non so bene che cosa, di dover chiedere scusa, non si capisce per che cosa. Io ho 68 anni, quando ero ragazzo ero iscritto al PC, ero un giornalista in unità, tutta la mia militanza è una militanza di contrapposizione nettissima al terrorismo, non tutti hanno la stessa biografia, non ho bisogno proprio di chiedere scusa a nessuno di niente. Io l'ho fatta, la battaglia è contro la lotta armata, altri non l'hanno fatta per altre ragioni, ciascuno ha le sue ragioni, nessuno ha più ragioni degli altri o è più nobile degli altri. Però mi pare un po' difficile accusare me o altri della mia parte di essere stati teneri nei confronti della lotta armata. La questione è se la lotta armata si risolve e si combatte col diritto o si combatte con altra lotta armata. Battisti ha dichiarato, ero in guerra, già lui era in guerra, io non ero in guerra, io non mi sentivo in guerra, io pensavo di dover combattere il terrorismo col diritto, col diritto, riconoscendo tutti i diritti agli imputati, non che dovevo combattere una guerra e quindi che potevo superare lo Stato di diritto, questa è la differenza, se no non ci sarebbe differenza, questa è la differenza, è una differenza essenziale e ancora 40 anni dopo io dico il diritto. Stavo dicendo, molti di quelli che mi chiedono perché adesso non ammetti, non chiedi scuse, sono gli stessi che dicono che poi questo Battisti è un mascalzone e che ha confessato solo perché gli conviene, perché in questo modo può ottenere degli sconti, perché in questo modo può… e già, allora non ci credete neanche voi? Allora voi non credete a questa confessione? Pensate che Battisti abbia confessato perché siccome era al carcere duro, era in isolamento, era al 41 bis e aveva la prospettiva di restare tutti gli anni che gli restano da vivere al 41 bis, ha preferito confessare, confessare esattamente pari pari quello che c'era scritto nelle sentenze, 40 anni dopo e in cambio probabilmente della speranza di avere qualche premio, può benissimo essere che sia nato così, penso che abbia fatto bene una condotta processuale, ogni imputato naturalmente ha il diritto di comportarsi come vuole e come più gli conviene per cercare di scontare la pena meno dura possibile, però sarebbe opportuno se noi un po' ci ragionassimo su queste cose, non è che una confessione di un prigioniero che sta al carcere duro e rischia di restarci tutta la vita, debba essere questa cosa che cambia tutte le nostre opinioni, le mie opinioni non cambiano molto, le mie opinioni restano quelle, che c'è una questione di difesa dello Stato di diritto, che l'uso dei pentiti nei processi, sia per terrorismo, sia anche per mafia, sia anche in altri processi è un uso esagerato e che non risponde allo Stato di diritto e che non c'è niente di male a porre questa questione, non mi interessano invece quelli che si radunano intorno alla forca dove è appesa Battisti e gridano, eccolo, eccolo, è lui, è lui, è lui.